L'ombra dell'Opificio torna sulla comunità senisese. Sembrava che il pericolo fosse scongiurato quando il 29 maggio scorso il Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata con delibera di giunta dichiarava ufficialmente decaduta l'istanza presentata dalla NEP Italy SRL per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti con produzione di combustibile solido secondario sul territorio di Senise in località Santa Lucia. In realtà la questione Opificio sembra tutt'altro che chiusa il tanto temuto impianto dovrebbe realizzarsi a poca distanza dalla dica di Monte Cotugno, il più grande invaso d'Europa che fornisce risorse idrica per uso potabile, irriguo e industriale alle regioni Basilicata e Puglia. La NEP Italy non si arrende e ha deciso di ricorrere a TAR chiedendo un'immediata sospensiva della delibera. La prima udienza, presieduta dal magistrato Benedetto Nappi, si è svolta ieri e un grido di allarme arriva inevitabilmente dal Comitato Cittadino che ora auspica che la Regione difenda le ragioni dell'atto emesso costituendosi parte civile nel processo amministrativo e che anche il Comune di Senise faccia lo stesso difendendo le ragioni che lo portarono ad emettere il 7 gennaio scorso la delibera di Consiglio Comunale con parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in agro di Senise.